Via del mare sta diventando una patata bollente per Luca Zaia e incalza la campagna elettorale. La nuova inchiesta giudiziaria su un'opera che la sua giunta stava per far costruire ha servito su un piatto d'argento alle opposizioni in consiglio regionale l'argomento con cui erodere i consensi su cui sta contando il governatore del Veneto. La prima a cogliere al balzo l'occasione è stata Alessandra Moretti, la candidata sulla carta più vicina a batterlo. Ma dov'è Luca Zaia? Si chiede l'ex portavoce di Bersani, ora forse Renziana. C'è un caso giudiziario al giorno in regione, è ridicolo che il presidente che era vice di Galano nel 2007 continua impettita la Moretti, anno in cui si svolse la gara per il project financing dell'opera incriminata si tiri sempre fuori. Ricordiamo che sono indagati sei dirigenti regionali, componenti della commissione che secondo il procuratore Ancillotto avrebbe favorito la adre infrastrutture di Claudia Minutillo, ex segretaria di Galan e anche Baita, lasciandoli tra gli altri cambiare l'offerta in corso di gara al ribasso per farla vincere. Stamane i sei dirigenti, tra cui l'attuale amministratore delegato di Veneto Strade, Silvano Vernizi, sono stati chiamati a comparire, ma i loro legali vogliono studiare bene le carte e stanno preparando memorie difensive. La corazzata del PD non ha mollato però, e i consiglieri regionali del partito hanno chiesto che Zaia vada a riferire in commissione lavori pubblici. Anche Laura Puppato parla di intrecci di potere e di interessi evidenti. A difenderlo il leghista Caner è senza pudore, dice, chi cerca di sostituirsi ai magistrati.